A Teramo l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare l'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito fino al 31 marzo 2021, un modo per aiutare le attività maggiormente colpite dalle restrizioni come i ristoranti e attività di somministrazione di cibi e bevande, a riprendersi dalla drammatica situazione creata dal Covid. Per noi, anzi, è anche giusto che l'hanno fatto e così ci hanno una mano. Per noi va bene, anzi, ringraziamo pure e andiamo avanti col nostro lavoro così. È una misura che se l'Abruzzo, come si spera, dovesse tornare in zona gialla già da domenica, si rivelerebbe provvidenziale per molte attività di somministrazione. Sì, è una cosa positiva, però la dovrebbero portare fino a tutta l'estate, altrimenti non ci si fa niente. Per chi aveva già richiesto l'ampliamento degli spazi esterni, la proroga sarà automatica, senza necessità di un'ulteriore domanda, mentre per chi non aveva provveduto sarà possibile farlo in quanto non sono previsti dei limiti. La ritrovo una decisione eccellente, in un momento in cui il mercato, speciale la ristorazione, è in grave crisi, questo tipo di agevolazione sicuramente sarà importante per il proseguo di questa drammatica avventura. La gente ha voglia di ritornare a una vita normale, per cui dal momento in cui si può aprire sicuramente ci sarà un riscontro da parte delle persone. Il momento è quello che è, noi abbiamo sicuramente bisogno di lavorare, ma in modo continuo. Cioè questo alternarsi di giallo, arancione, rosso, non fa altro che creare confusione, ma soprattutto una grave crisi economica, perché va da sé che nel settore commerciale se si lavora ci sono le entrate, se non si lavora non ci sono entrate. Considerato pure che gli stori non sono sufficienti, è un settore che sta vivendo veramente in modo drammatico questa situazione. L'essere agevolati da parte del Comune è una grossa questione di sensibilità da parte del Sindaco, da parte dell'Assessore, e sicuramente fa piacere.